Questo appuntamento importante rientra in un accordo, in un protocollo di intesa firmato due anni fa e da noi proseguito con interesse e soprattutto con attenzione, non solo perché va a sviluppare un'area altamente interessante per quanto concerne la biodiversità, ma sotto l'aspetto anche naturalistico, paesaggistico, merita attenzione e approfondimenti e studi. Non poche infatti sono le tesi di laurea sulla biodiversità della Val Sanguigno. Ma Val Goglio si sta anche attrezzando per il Parco delle Orobie, se non erro, state anche allestendo un importante parcheggio? Uno è già stato completato, verrà inaugurato a giorni, si trova in località Bortolotti, direzione Selvadagnone, un parco che può ospitare dalle 45 alle 50 macchine, per cui tutti coloro che vorranno godere delle bellezze di Val Goglio, soprattutto di 5 lani, avranno l'opportunità di parcheggiare. Un costo sarà un costo minimo, ma questo veramente per chi vuole arrivare fino alla punta estrema della viabilità. Quindi il rapporto Parco-Comunità Montana e in questo caso Comune ci ha garantito questi finanziamenti. Ma a breve puntiamo ad avere un'ulteriore possibilità, per quanto riguarda proprio la Val Sanguigno, di mettere in disposizione dei turisti un parco per 60-70 vetture all'altezza centrale di Aviasco, un intervento che verrà a costare 500 mila euro, il 76% dovrebbe essere finanziato con la legge 25 rimanente a carico del Comune. Questo garantirà non solo parcheggi, ma anche punti informativi e ristoro per valorizzare al meglio, veramente, la Val Sanguigno, una, ripeto, delle caratteristiche per quanto riguarda la biodiversità delle nostre Orobie.